Salve a tutti i miei citrizzanti e benvenuti di questo nuovissimo video su Mistletrick, da oggi ragazzi eccoci qui in un nuovissimo video update di Cookie Run Kingdom, in particolar modo ragazzi nell'update del 30 ottobre 2024. Ragazzi quest'oggi abbiamo un nuovissimo update, non uno dei più grandi ma comunque un importante update, in quanto come fecero per Dark Cacao Cookie, ovvero sbloccare la sua versione rinata, hanno fatto la stessa cosa per Golden Cheese Cookie, infatti l'hanno chiamato Immortal Phoenix, qualcosa del genere, vabbè lo andremo a vedere assieme. Proprio perché appunto nello scorso update, se vi ricordate, hanno aggiunto il secondo folle nero, ovvero Burning Spice Cookie. Allora prima di tutto ragazzi come sempre andiamoci a prendere i premi giornalieri, cioè i premi giornalieri, i premi dell'update e appunto ci hanno dato queste 2000 Light of True Abundance, perché appunto sono gli oggetti che ci serviranno per pullare il nuovo Golden Cheese Cookie. Prima di partire con l'update volevo dirvi che off camera ho ottenuto Burning Spice Cookie non garantito, quindi ho avuto un po' di fortuna e indovinate un po', l'ho ottenuto quasi subito dopo aver registrato il video. E come vi ho detto ragazzi con Golden Cheese Cookie hanno aggiunto la versione risvegliata, scusate con Burning Spice Cookie hanno aggiunto la versione risvegliata di Golden Cheese Cookie ed eccola qua, Golden Cheese Cookie Immortal. Per poterla pullare ragazzi ci sono le Light of True Abundance e vi ricordo che appunto in questo caso otterremo il garantito a 150 pull, non a 250 pull. Nel frattempo ragazzi ovviamente oggi ho chicchiato un pochetto per portarmi un po' avanti e studiare anche un po' l'update e il primo evento è un evento login, ogni giorno abbiamo diciamo dei premi. Quest'altro evento ragazzi è il classico evento missioni in cui ci sono un bel po' di missioni da fare, io già ne ho fatte alcune, infatti prendiamoci tutti quanti i premi che ci spettano tra quelli appunto giornalieri e tra quelli definitivi. E otteniamo quanto siamo? 3580, forse se faccio qualcos'altro possiamo farci una quarantina di pull. Questo è un evento molto carino in cui facendo le missioni che vedete qui a destra otteniamo questi oggetti che sarebbero gli Strike Points. E con gli Strike Points noi praticamente possiamo andare a sconfiggere dei nemici che stanno appunto, insomma, come vedete qui. In particolar modo ogni tot nemici c'è un nemico forte e in base agli strike, in base agli oggetti che otteniamo possiamo togliere un tot di cuori. 1, 2 e 3, 4, 5, 6 e 7. Vabbè abbiamo sconfitto 3 nemici in sostanza, non me l'aspettavo nemmeno io. E otteniamo appunto le ceste, le ceste che vedete qui. Ovviamente ci sono delle ceste che ci danno premi meno rari e delle ceste che ci danno dei premi un po' in più importanti come questi Magic Cutter. Ora abbiamo il Multi Strike quindi possiamo sconfiggere altri 3 nemici ed ogni nemico che sconfiggiamo ci viene data una cesta, addirittura una cesta epica. Ed è una cosa molto bella se devo essere sincero. Tanto alla fine le missioni sono super semplici da fare e qui otteniamo 500 diamanti. In base ai trofei che collezioniamo possiamo ottenere i premi che vedete qui sotto, fino a un totale di 150 trofei dove possiamo ottenere 1500 Light of True Abundance che non è per niente male. Ad esempio otteniamo altri 3 trofei, e infatti è quelli qui, schippiamo diciamo che facciamo prima. Possiamo farne altri 3, perfetto, 1, 2 e 3. Questa volta ci è andata molto male. E infatti ragazzi abbiamo ottenuto 12 trofei e possiamo ottenere i premi che vedete qui sotto. 300 gemme e 5 sostanzialismo che ci scuchi. Poi hanno aggiunto quest'altro evento che praticamente sarebbe un evento in cui ogni giorno abbiamo la possibilità di consumare Giussi Stamina Jelly. E ragazzi ogni giorno vi regalano 100 Light of True Abundance, quindi fatelo. In base ai giorni di missioni che completiamo otteniamo i premi che vedete qui. Quindi se completiamo 5 giorni otteniamo un Legendary Earth and Biscuits, quindi possiamo scegliere un biscuit leggendario e così via per 10 giorni e 15 giorni. Hanno ragazzi aggiunto il mondo 6 del Beast East, io ancora devo fare il 5, appena trovo un po' di tempo faccio tutto. Ovviamente ragazzi nello shop ogni giorno possiamo ottenere 40 Light of True Abundance. Una cosa molto carina ragazzi che hanno fatto e che io ho apprezzato tantissimo è che nel Seaside Market in realtà hanno giunto la sezione del Coin Market. Quindi voi potete scambiare i vostri soldi e credo che se giocate dall'inizio ne avete un po' di soldi, vedete a me che ne ho parecchi. Per poter scambiare appunto i vostri soldi con degli oggetti, diciamo, di vita quotidiana che potete ottenere dalle strutture del vostro villaggio. L'unica cosa è che per sbloccare gli oggetti da poter comprare in questo shop dovete craftare almeno 10 volte. Ad esempio io non ho mai craftato 10 volte il Golden Croissant e quindi non me lo fa acquistare. E così via per gli altri premi. Ma direi di parlare di... dove sei? Smoked Cheese Cookie, un nuovo biscotto epico ed è un nuovo biscotto magico. Ecco qua l'abilità che si chiama Get Smoked, bella, fumica di tipo. Smoked Cheese Cookie usa il suo smoke, quindi il suo fumo, per incantare i nemici, amplificando il danno che ricevono e facendo danni multipli ai nemici all'interno del fumo. Quindi con un'esplosione fa molto più danno e un danno extra ai nemici in PvE. Quindi se lo utilizziamo in PvE fa più danno rispetto a quelli che farebbe in PvP. Una volta che viene utilizzata la sua skill applica il Guardian's Return Buff ad un alleato con il più alto attacco. Se Golden Cheese Cookie è in questo team, la prioritizza. Quindi darà questo buff a lei. Il Protector of Golden City Buff, quindi questo nuovo buff, si attiverà quando si entra in battaglia con Golden Cheese Cookie. Ok, quindi sta dicendo utilizzare un combo perché è ottimo. Questo effetto è applicato Golden Cheese Cookie, Burn Cheese Cookie e Smoked Cheese Cookie. Ragazzi, io non mi ricordo chi è Burn Cheese Cookie. Sei tu? Ah, sei tu. Vabbè. Ok, non me lo ricordavo proprio, vabbè. Oramai sono troppi nomi. Ok, allora ragazzi, in realtà abbiamo finito qui. Se non sbaglio c'è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il gacha dedicato ai costumi dei abitanti. Infatti hanno messo questo Limited di Golden City Style che facciamoci velocemente. Tanto ragazzi alla fine è pure estetica e onesto. Ma abbiamo ottenuto qualcosa di importante. Forse questo sì. E infatti sì, che culo, vabbè. Come dire, non ci vado tanto appresso anche perché a me di personalizzazione è che mi faccia impazzire, soprattutto in giochi del genere. Allora sì, dobbiamo fare le pull e abbiamo da fare un bel po' di pull. Anche perché la cosa interessante è che nel banner normale, nei gacha normali, hanno aggiunto l'Earth Gacha. Dove è possibile ottenere Golden Cheese Cookie con una probabilità aumentata. Ed è un'ottima cosa perché io ce l'ho solamente ad una stella ed è utilizzato, ovviamente direi, in arena. Quindi quasi quasi, io punterei anche a fare qualche pull qua. Anzi, forse più pull qua che in questo qui. Ovviamente dobbiamo ottenere un attimo Smokey Cheese Cookie. Ma prima ci facciamo quelle normali. Ragazzi, io skipperò perché oramai, raga, io veramente non so quante pull abbiamo fatto. Veramente una marea. Cioè ogni biscotto epico che otteniamo poco ci importa. Veramente poco ci importa. E vedete, comunque li otteniamo i biscotti. Però cioè, oramai veramente siamo abituati a meglio, insomma. Ok, 90 pull se ne sono andate così, perfetto. E ovviamente, ora con calma queste qui ce le facciamo. Perché se no, non c'è manco più l'usfizio, no? Comunque vabbè, epico avete visto. Ed è uno solo. Vediamo un po' se è Smokey Cheese Cookie. Ok, vediamo un po'. Leggendario. Leggendario. Va bene, ragazzi, viene utilizzato. Non mi lamento. Windarrow Cookie, che culo. Non me la ricordavo proprio l'animazione perché l'ho ottenuto una volta, forse. È tramite il garantito, ovviamente. Non mi lamento. Cioè, mi va bene così. Godo. Cioè, tra i migliori... Tra i biscotti leggendari ho chi ha fatto il migliore. Vabbè. Qua schippiamo, non c'è niente. Qua schippiamo. C'è Carol Cookie. Fissiamo quale biscotto natalizio metteranno. Eccolo, vabbè. Vabbè. Eccolo qua. Non me l'aspettavo, anche perché si è stato solo Ginger Brave. Animazione non l'ho vista, ovviamente, ragazzi. Eccolo qua. Smokey Cheese Cookie. Never let your guard down. Bello. È molto figo, ragazzi, come biscotto. Veramente bello. Infatti è, diciamo, tra i più amati da quando è stato annunciato. Ok, continuiamo, dai. Facciamo queste altre 20 pool su questo banner. E, onesto, vedendo gli ultimi biscotti, oramai basta che lo ottenete. E va bene così. Però io vorrei fare qualche pull su questo banner qui, ragazzi. Perché vorrei provare a ottenere Golden Cheese Cookie. E direi di farci... Sì, arriviamo a 500.000, vai. Facciamo uno strappa alla regola, ma proprio per necessità. Qua intanto non c'è niente. Sarebbe male ottenere anche qualche shard. Perché ne abbiamo 15, ne abbiamo. Ci manca poco a portarlo a due stelle. Non sarebbe male portarlo a due stelle. Infatti una shard l'abbiamo ottenuta. Ok, qua c'è l'epico. Non male, dai, speriamo. Tanto oramai, ragazzi, gli ancient in sé, come rarità, non è tra le più rare, ecco, diciamo. Ok, uno solo. Diamo un po'. Eccolo subito, primo. Ok, è epico solamente. Ed è giustamente espresso, perché sì, hanno la probabilità aumentata di... Gli altri hanno la probabilità aumentata di apparire. Qua non c'è niente. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Perfetto, è un... Un disco rotto sta diventando. Qui non c'è niente. Qui non c'è... C'è lui espresso. E fra poco possiamo portare... Windarrow cookie a due stelle? Sì, forse due stelle. Qui non c'è niente. Ok, 100 pull se ne sono andate, ragazzi. Come volano le pull. Abbiamo un bel po' di gemme, ragazzi. Io per questo me le voglio conservare in occasioni del genere, perché non vorrei sprecarlo. Ok, dai, fammelo trovare qua, golden cheese cookie. Me ne basta uno, guarda. Così lo portiamo a due stelle ed è molto meglio. Ok, una sola. A parte che abbiamo anche tre pull da fare, però. Ah, sempre il primo. Chi è? Eh, niente, epico. Ed è sempre espresso. Vabbè. Espresso oramai l'abbiamo saturato. Qua non c'è niente. Qui c'è CCC Captain Caver cookie. Qui non c'è niente. Ok, due shard che male non sono. Dai, abbiamo altre 40 pull. Dai, dai, dai. Non voglio scendere sotto le 500.000, anche se però sarei un po' tentato, effettivamente. Però quando arrivo, cioè, o me le faccio tutte, o me le faccio tutte praticamente. E non voglio esagerare. Già stai 60.000 gem. Insomma, due mesi di farming, forse un po' di più. Ok, vediamo un po'. Dai, dammelo. Dammelo. Latte. Vabbè, ma dai, dammi sto golden cheese. Dai, che cazzo. Uno solo, skip. Vai, basta. No, Space Donut. Olè, perfetto qua, raga. Ne è possibile. Vabbè, poi ci penso. Poi ci penso. Ho 20 giorni per pensarci. Magari qualcos'altro lo faccio. Direi di farci quindi 20 pull sul banner di Burning Spice Cookie. Otteniamo il garantito. Quindi vi faccio vedere anche l'animazione in video. E godo. Non sarebbe male ottenerne un altro. Per portarlo a due stelle quasi. Una sola formina. Vabbè, Black Racing Cookie. Possiamo ottenere il garantito, ma ci facciamo un attimo l'ultima multi. Oh, epico. Attenzione, attenzione. Dai, dai, dai. Dai, dai. Uno solo. Dai. 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 Eh, che cazzo. Vabbè, niente. Abbiamo altre... Sì, 500 pull. Eh, 500 pull. Posso di. Altre 5 pull. Ve lo di. 3, 4 e 5. Uh. Oh. Però. Ok, via di garantito. Eccolo. Mamma mia che bello. Eh, sì, è il secondo che ottengo. Perché uno l'ho ottenuto un po' a culo. Entro le 250 pull e questo è il secondo. Quindi ad una stella lo abbiamo. Però mi sarebbe piaciuto portarlo a due stelle visto che stiamo a zero stelle e mezzo in sostanza. Cioè, quindi ci mancava veramente poco per averla a due stelle. Eh, vabbè. Non posso avere tutto nella vita. Eccolo qua. Burning spice cookie. Perfetto, 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 perfetto. 20 shard per noi. E direi lo portiamo ad una stella. Eccoti qua. Perfetto. Non male. Mi piacerebbe a due stelle perché così cambia pure l'aspetto, capi? Forse è la prima volta che vi faccio delle animazioni del genere. Sì, forse sì. Perché l'altra volta a compiere Beast Mystic Flower l'ho fatto off camera. Comunque questa è l'animazione. Bello. E qua ci manca una shard qua. Che peccato. Vabbè, lo faremo. E a questo punto io faccio una cosa. Visto che mi mancano poche nether gash. Faccio qualche missione. E vedo un po' di arrivare a 4000. Cioè, praticamente mi mancano 30 light of true abundance praticamente. Ok, missione fatta. Siamo a 4000 light of true abundance. La probabilità qual è? Qual è la probabilità? Sempre, ah, sempre il 36%. 0,36% ovviamente. Vabbè, 0,3%. Dai, non esageriamo. Dai, vediamo un po'. Dai, dai. Fai il bravo gioco. Fai il bravo. Un cazzo di niente. Almeno dammi le soul stone, dai. Le soul core, come cazzo si chiamano. Dai. E te pareva, ovviamente. Due. Ok, epico. Dai, gioco. Dai, dai. Che dà una vita che non otteniamo un biscotto che non sia esclusivo ma epico nel gioco. Durante in video, intendo. Ok, due epici. Dai, 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 dai. Vorrebbero fare una, diciamo, animazione per farti capire se stai ottenendo o le ancient o il dragon o il beast. Capì? Vorrebbero farla. A parte il biscotto. Oh, 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 yes, 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 yes. Vedete cosa serve? Eh, bello, bello. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto. Ottimo. Sublime. Incantevole. Magnifico. Awaken Now, eh, certo che lo faccio. Ottimo. Pure l'altro, eh, pure l'altro, pure l'altro, pure questo, pure questo, eh, ma non direi, ma pure questo. Ah, volevo troppo. Perché? Scusami. Ma io caramel shoe cookie ce l'ho. Per questo non capivo. Cioè, io ce l'ho. Perché mi ha dovuto fare parte il dialogo? È un bug, credo. È un bug. Ma per forza, se non si spiega. Vabbè, ragazzi, io lamentarmi non fo. Anzi, non so. Non fo, non mi lamento. Eccolo. Eccolo, ragazzi. Eccolo. Eccolo Golden Cheese Cookie che si risveglia e diventa immortale. La Fenice è immortale. Eccolo qua. Ragazzi, eccola qua, mamma mia. Perché dico, ho detto eccolo, ho sbagliato. Eccola, femmina. È una donzella. Eccola qua. Mamma mia, che bella. È figa proprio. È figa proprio. È veramente figa. Ragazzi, eh. Meglio di così. Non ci poteva andare. Una stella Burning Spice Cookie. Abbiamo ottenuto Golden Cheese Cookie, la versione immortale. Io direi che per questo video è tutto. E quindi, ragazzi, cosa dire. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così sta, ragazzi. Se avete cosa fare, lasciatissimo. Lì, in su. Commentate e condividete. Ci sono un prossimo video. Attivate la campanella per i miei giornali, appunto, sui feed di video. Seguite i commenti di prima giornale, sulla programmazione. Iscrivetevi se non c'è l'ho fatto. E cosa dire, ragazzi. Arrivederci. Grazie. Grazie.